Benvenuti a tutti, oggi faremo un primo piatto facile facile, solita pentola dell'acqua, padella con olio, andremo a mettere un po' di cipolla, poi subito i peperoni, ho usato un peperone rosso e uno giallo, erano in frigo e quindi li devo finire, salsiccia, poi userò un po' di vino e iniziamo, cipolla, poi inizieremo con i peperoni, guardate che bei colori ragazzi, guardate, peperoni, adesso li lasciate un po' cucinare e poi aggiungeremo la salsiccia, io per comodità, guardate cosa faccio, la salsiccia dentro la faccio uscire dalla budella, la preparo e poi la andrò ad aggiungere ai peperoni, abbiamo inserito la salsiccia, in questo caso di vitello, però secondo me anche di maiale andrebbe benissimo, spalto dalle budella, così cuoce prima e non perde il sapere, sfumiamo col vino e attendiamo la cottura, intanto l'acqua è pronta, l'acqua bolle, salsiccia e peperoni stanno andando, ecco qui, vediamo la pasta, qua, la pasta, il dente mi raccomando, sempre al dente, guardate qui, eccoci qua, adesso andremo ad amalgamare il tutto, guardate qui ragazzi, salsiccia e peperoni, adesso impiattiamo, e poi avremo ad amalgamare il tutto, guardate qui, eccoci qua, adesso impiattiamo, Grazie a tutti.